Buongiorno, sul Corriere delle Alpi di oggi martedì 20 giugno la notizia dell'aggressione avvenuta sabato notte diventa il titolo principale, il titolo di apertura perché ci sono degli sviluppi, tre coltellate dopo la lite è un tentato omicidio, i carabinieri hanno arrestato un 36enne e accusato di aver ferito un uomo in piazza dei martiri e si cerca di capire il movente, è stato sequestrato il coltello, a Damiano l'assessore dice che servono più controlli, approfondisce sul Corriere delle Alpi a pagina 15 la nostra collega Cristina contento, noi andiamo subito a vedere qualche informazione in più su questa vicenda che apre la sezione di Belluno del Corriere delle Alpi, la colteratore finisce in carcere, la procura contesta il tentato omicidio, i carabinieri di Belluno continuano le indagini per scoprire il movente, perché quest'uomo ha accoltellato lo straniero, il Moldavo, straniero no, perché vive da tanti anni ormai a Belluno, l'aggressore è un 36enne siciliano che non abita qua, è finito in cella con l'accusa di tentato omicidio, GP sono le sue iniziali, siciliano di 36 anni che abita a Treviso, l'uomo sabato notte ha aggredito un sessantenne Moldavo, come dicevamo già prima, accoltellandolo due o tre volte, un fendente è arrivato all'addome dell'aggredito, benché non in maniera profonda al punto da metterne in pericolo la vita, all'ospedale il Moldavo da anni residente a Belluno è stato giudicato guaribile in una decina di giorni e dimesso in serata i colpi, non sono andati così in profondità da colpire organi, ma poteva morire. Non è ancora chiaro il movente che ha portato GP ad accoltellare CC e a spedirlo in ospedale, del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Belluno che nella notte tra sabato e domenica sono intervenuti e hanno fermato il 36enne siciliano in piazza dei martiri, sequestrato il coltellino di marca Opinel, uno di quelli con il manico di legno e con lama richiudibile per quanto piccolo e a lama corta, usato di solito per filettare i pesci e affettare i salami, se usato contro una persona può permettere di assestare colpi mortali. In procura il pubblico ministero Alberto Primavera ha disposto la custodia cautelare in carcere, l'hanno portato a Baldenic, nei confronti del siciliano difeso d'ufficio dall'avvocato Massimiliano Zeiss, forse nell'udienza di convalida prevista per domani GP spiegherà l'arrestato, spiegherà che cosa lo ha spinto ad un'aggressione senza precedenti nei confronti dello straniero. Il grave episodio è avvenuto in pieno centro, intorno alle due di notte, sabato, tra sabato e domenica, sembra che CC si fosse messo in mezzo nel tentativo di separare GP da un'altra persona, altri parlano invece di un litigio che avrebbe visto protagonisti entrambi, parola dopo parola si sarebbe arrivati ai fatti che sono diventati tragici perché CC non sono diventati tragici solo perché è scappato sotto shock con il torace sanguinante. Il Moldavo ha cercato rifugio nel primo locale che ha trovato aperto. Non vi leggo tutto, lascio a voi la lettura anche perché questa rassegna stampa vuole offrire delle anticipazioni ma poi vi invito a comprare questi giornali perché se non comprate i nostri giornali, parlo anche per noi dell'ambito del popolo, noi non possiamo farvi questo servizio insomma. Però volevo dirvi la fotografia in realtà non si riferisce a questo, si riferisce alle auto della polizia dei carabinieri giù a Lambioi perché in Lambioi c'è stata anche la rissa tra giovani che si erano trovati giù ad ascoltare musica, quindi insomma nella stessa notte molto movimentata nella nostra città. C'è un altro titolo, violenza in città i precedenti, rissa a colpi di bottigliate a Pasqua, vi ricordate? L'ultimo episodio efferato in centro storico era accaduto la vigilia di Pasqua, una lite tra ragazzi era degenerata in un brutale pestaggio e un giovane bellunese è stato colpito prima con pugni e poi con una bottiglia rotta nei pressi di Porta Dante, incentrissimo, c'era il sangue per terra sulle piastrelle. In ospedale era stato medicato con una ventina di punti di sutura tra labbra, zigomi e fronte, l'aggressore coetaneo del giovane colpito è stato identificato e denunciato per lesioni aggravate. Che cosa dice il comune? L'assessore Raffaele Damiano che vediamo nella foto, in vista dell'estate tornerò a fare controlli in città con la polizia locale, un appello ai ragazzi non abusate di alcol. La giunta aveva deciso giorni fa di ridurre lo spegnimento delle luci, vi ricordate l'abbiamo fatto per via della crisi. I fatti accaduti non vanno sottovalutati, dice Damiano, grazie alle forze dell'ordine. Lampioni, questo pare essere l'orientamento della giunta, accesi fino alle due di notte per garantire maggiore sicurezza, cioè si riporta luce nelle strade di Belluno fino alle due di notte. Capite che comunque si tratta di soluzioni di tampone che non rimuovono all'origine questa spinta alla violenza che si manifesta in città, era anche un punto d'onore di questa nuova giunta comunale, quella di voler così metter fine a certe situazioni di degrado anche così sociale che si presentano a Belluno, che si erano presentate negli anni scorsi, devo dire mai con questa gravità però perché qui si sta scivolando in una situazione particolarmente pesante da accettare rispetto alla quale a quanto pare le nostre autorità non è che stiano riuscendo a fare granché perché viene da dire sempre peggio. Dunque la pagina successiva, pagina 16, maturità per 1400 studenti, sostituiti 12 commissari esterni, svariati i motivi delle rinunce, malattie, congedi parentali legati alla legge 104, magari super lavoro all'ex provveditorato per far fronte al blocco dei sistemi informatici perché evidentemente ci voleva anche il blocco dei sistemi informatici. Fatto sta che insomma si comincia con la maturità e noi facciamo il bocca al lupo anche da qui ai ragazzi che adesso si apprestano a svolgere l'esame finale del loro percorso di studi superiori. Torno alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questa che è la rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo, buongiorno a tutti, da Luigi Guglielmi. La foto centrale del Corriere delle Alpi sotto il titolo delle coltellate è spettacolare. È una foto presa dall'alto, ritrae il ponte degli Alpini con tutti gli Alpini schierati che stilano Alpini, l'elogio dello speaker Stefani ai Bellunesi, qui tanta serenità e un ritrovato entusiasmo. La didascalia dice questo, il mio motto, sono parole di questo Stefani, davanti ai muli, dietro ai cannoni, distante dagli ufficiali. L'avvocato Nicola Stefani, 61 anni di Pieve di Soligo, dal 1996, vita, è una delle voci, delle adunate e dei raduni degli Alpini dell'Ana, è entusiasta della Tre Giorni Bellunese, qui c'è consapevolezza di appartenere a un'associazione. Bello che Belluno, anche grazie al bellissimo tempo che c'è stato e a un'organizzazione perfetta abbia potuto lasciare questo segno positivo nei tanti che sono stati presenti. C'è qui il lancio del titolo dell'approfondimento che poi abbiamo visto dentro sull'esame di maturità, altri titoli da questa prima, Feltre Furto d'identità vive per strada ma deve pagare 80.000 euro a processo come manager di azienda con 80.000 euro di imposte da pagare ma è nulla tenente vittima di un furto d'identità, è incredibile. Pagina 23, firma Gigi Sosso, se volete andare ad approfondire. Cortina, bilancio 2022, rifatti i conti, il comune perde 5 milioni, il revisore fa rifare i conti del bilancio 2022, il patrimonio viene svalutato e così Cortina si scopre più povera di 5 milioni, anche qui approfondite voi, pagina 27, pagina 9 del Gazzettino. Auronzo, i tre migranti ospiti in paese potrebbero perdere la casa, i tre migranti che la prefettura ha assegnato ad Auronzo di Cadore rischiano di rimanere senza casa, il sindaco si appella all'ATER, l'ente delle case popolari. Misurina, narcotrafficante e latitante arrestato al camping, il narcotrafficante serbo di 47 anni ricercato in tutta Europa è stato arrestato a Misurina mentre è in vacanza, ieri avete letto anche sull'Amico del Popolo, amicodelpopolo.it di questa notizia. L'azienda bellunese, tassine di caffè, targate Bristot in 65 paesi esteri. Procaffè aumenta i ricavi del 25%, questa è un'ottima notizia e consolida la sua presenza nei mercati esteri. Procaffè è l'azienda che possiede il marchio del caffè Bristot, che viene prodotto qui a Belluno. Registrando un fatturato che sale oltre i valori pre-Covid e rafforzandosi negli Stati Uniti, in Grecia, in Germania e in Romania. Fa impressione effettivamente quando andiamo nei bar in giro fuori Belluno e ci troviamo davanti una tazzina marchiata con il logo del caffè Bristot. Nel frattempo riapre ai bellunesi, l'azienda, riapre le porte dell'azienda. Belle notizie queste, siamo contenti di poterle dare. Adesso passiamo alla prima del gazzettino. Vedete che anche qui c'è tanta roba, secondo me, abbiamo l'imbarazzo della scelta oggi su quale dei due giornali acquistare senza dire che si possono anche acquistare due e due. Allora Belluno mette in prima pagina queste notizie sotto l'attestata Wall Street Journal premia il caffè della Bristot fra i primi dieci al mondo. La notizia che abbiamo letto anche di là, giocata qui con un titolo diverso, con una prospettiva diversa, cioè la segnalazione del Wall Street Journal che dice che è tra i primi dieci al mondo. Mica poco, no? Quindi è bellissima questa notizia. L'iniziativa Fly Therapy 20 ragazzi disabili in volo all'aeroporto di Belluno per farli, per regalargli, insomma, positività e soddisfazione. Cortina, Lavaredo Ultra Trail in vista. Pensate che ci sono 5.700 atleti che vengono, questa è una cosa incredibile, da 89 paesi. Ricordiamoci che gli stati, sono 130 quanti sono gli stati del mondo, qui ne sono rappresentati 90, cioè una cosa incredibile. Si sentono le lingue di Mezzomondo, lancia di buona in prima pagina, in queste ore a Cortina, che nei prossimi giorni sarà arrivo e partenza delle varie gare della LUT Lavaredo Ultra Trail. Allora, il titolone di apertura, figli di coppie omosessuali, Belluno, prima nel vento, scoppia il caso Padova, sapete che a Padova sono stati, beh, lo leggiamo adesso nel lancio, ma qui le iscrizioni sono impugnate fin dal 2018, la procura di Padova ha impugnato 33 casi di iscrizione all'anagrafe di figli di coppie omosessuali, ma a Belluno la storia è vecchia, è in regione il capoluogo dell'Omitico, la nostra città, Belluno, insomma la nostra provincia, fu una specie di pioniere quando nel 2018 il procuratore Paolo Luca firmò il ricorso contro l'iscrizione nelle liste del comune di Borgo Valbelluna di un bimbo nato da una mamma con il seme di un donatore, il ricorso non lascia margini di dubbio come requisito vincolante per il riconoscimento esclusivo della genitorialità, l'ordinamento richiede che i genitori non abbiano lo stesso sesso, lo stesso codice civile fa riferimento infatti a termini come padre, madre, moglie, marito. Partendo da questo punto fermo, secondo Luca l'ufficiale dello Stato civile del comune avrebbe dovuto rifiutare il riconoscimento che al contrario doveva essere presentato da un uomo e da una donna, il procuratore capo Paolo Luca non ha quindi sindacato sull'opportunità umana del riconoscimento ma ha applicato quanto dispone la norma, c'è un'intervista all'avvocato Maurizio Paniz riferita al caso delle due mamme appunto di Mel Paniz, la Cassazione ci darà torto, poi ci rivolgeremo alla Corte Europea, ricorsi per il riconoscimento persi d'Italia, all'orientamento della giroiscrudenza non lascia margini, all'avvocato Maurizio Paniz che assiste Cinzia Dell'Olivo e Monica Burigo, le due mamme dello stesso bimbo, andremo, così insomma viene definito che a me la mamma è solo una, andremo davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, conferma Paniz, un titolo che a me inquieta perché ho presente bene qual è la situazione, Vaia è finita, cioè al di là del fatto che ci sono un terzo degli alberi ancora giù, ma insomma tra opere idrogeologiche eccetera il problema di Vaia l'abbiamo affrontato e forse si avvia risoluzione, ma adesso il problema è il Bostrico che in Agordino sta facendo una devastazione pazzesca, è evidente a tutti vedendo le piante di piedi di Bostrico che la superficie ormai è altrettanta rispetto a quella buttata giù da Vaia, è un'emergenza pazzesca, sindaci regole, raccolto tutto il legno possibile, quello rimasto proteggerà dalle valanghe ed emerge un altro pericolo, quello del Bostrico appunto, le ferite inferte dai boschi, ai boschi dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018 sono state quasi tutte sanate da dove è stato possibile farlo, un flagello che atterrò il 4,9% della superficie boschiva del Veneto di cui il 67% concentrata nel Bolognese, dalla Val Vizdende spiega il presidente dell'omonimo consorzio che gestisce i piani regolieri è stato asportato praticamente tutto il materiale abbattuto, non è così in Agordino per esempio, la furia del vento aveva spezzato alberi per un volume complessivo di 70-80 mila metri cubi, di questi sono rimaste poche centinaia, in altre parti della provincia rimane a terra, ve lo dicevo prima, il 36% del totale, c'è ancora terzo degli alberi sono due a terra, ma si tratta di tronchi per lo più irrecuperabili sia per le esigenze valanghive sia per questioni di pericolosità degli interventi, la grande bonifica di Vaia insomma si è compiuta ma ora a minacciare i boschi bellunesi c'è il Bostrico, ormai non possiamo più salvare il bosco, dice il presidente del consorzio, c'è già chi ha capito che bisognerà gettare la spugna, è una cosa tremenda perché non è ancora fermo, sta andando avanti, c'è la foto in prima pagina, ce l'ha mandata ieri sera i vigili del fuoco di una preziosissima Aston Martin del valore di circa 200 mila euro, targa tedesca, che ieri è uscita di strada e rotolata giù per il pendio sui tornanti del JAU, bolide sportivo fuoristrada sul JAU, probabilmente si andava secondo i limiti, non avrebbe fatto questa fine, quasi distrutta un Aston Martin, Belluno pestaggio baby gang condannata, a proposito di fatti che sono caduti a Belluno, arriva la condanna per uno dei rapinatori che lo scorso anno terrorizzarono Jesolo, tanto da portare il sindaco Christopher Dezzotti a chiudere nei fini settimana gli accessi al mare del centro, vittime anche due bellunesi, due ragazzi derubati e picchiati in pieno centro, in questo caso stiamo parlando di vittime, ma se mettiamo insieme i fatti di cronaca di questo tipo, insomma ce n'è finché si vuole, ieri il giudice ha condannato a 4 anni l'albanese Marcos Berberai, 23 anni, residente nel Trevigiano e lo ha poi scarcerato dopo quasi un anno di detenzione preventiva mettendolo agli arresti domiciliari, pagina 7 per chi vuol saperne di più, fratello e sorella ventenni gestiremo noi la malga, parliamo di Nicola e Ilaria Scalette con i genitori nella foto Giancarlo e Lina, il mestiere del malghese è bellissimo dicono, non capita spesso sentire pronunciare questa frase ancora meno da un ventenne, falciare il pieno, accudire le mucche, in stalla o al pascolo, mungerle, preparare il formaggio, un impegno che inizia alle 5 e mezza e quando va bene termina alle 21, altro che social network o console elettroniche, la vita di Nicola Scalette, 20 anni e della sorella Irene, 25, d'altro canto è sempre stata questa, il lavoro di famiglia e ne vanno orgogliosi, i due fratelli da luglio avranno in gestione Malga-Framonte di proprietà del comune di Agordo che sorge in un luogo incantato e incorniciato dalle più belle cime donomitiche, il bello dell'ambiente in cui lavorano i malgari è qualcosa di stupendo. L'evento, la donata degli alpini, bar e ristoranti sorridono, chiusi per scelta molti negozi, commercianti del centro di Belluno con il sorriso dopo il lungo fine settimana con il raduno trivenito degli alpini, come abbiamo detto tante volte dobbiamo farne queste manifestazioni. Bene per bar e ristoranti ma non per i negozi, rimasti chiusi per scelta, non ci sembrava l'occasione per fare business, afferma la Demin di Ascom Belluno, questo evento ha portato Belluno in tutta Italia, è vero, è vero questo e probabilmente ne vedremo ricadute positive nei prossimi anni. Allora io mi fermo, mi fermo qui, mi fermo con questo titolo così a ricordarci di questo allarme che è il Bostrico, se andiamo in montagna se frequenteremo l'Alto Gordino, soprattutto quest'estate, insomma notiamo di questi alberi grigi, marroncini che sono in piedi in mezzo al verde, quello è Bostrico, quelli sono gli alberi morti, sono tantissimi e purtroppo quando un albero è morto poi loro passano all'altro, passano all'albero vicino, stanno attaccando anche piante sane questi animaletti e le prospettive come capite non sono assolutamente positive. Allora, buona giornata a tutti, buon martedì 20 giugno da Luigi Guglielmi con la raccomandazione di acquistare questi giornali, Gazzettino, Corriere, l'Amico del Popolo, di seguirci su Radio Piave, seguirci anche su www.amicodelpopolo.it Ciao a tutti, buona giornata!